La burocrazia assurda ha il volto di Sadia, 78 anni, di origine marocchina, dal 1999 in Italia, residente a Gubbio, inferma da quattro mesi a questa parte, dopo un ictus che le ha precluso l'uso delle gambe. Con lei vive il figlio, Youssef, 40 anni, dal 2002 in Italia, prima operaio in un'impresa di imbianchini, oggi dopo il licenziamento, partita IVA, venditore ambulante per necessità nell'impossibilità di trovare un altro lavoro nel settore d'Ile. Da quando Sadia è rimasta inferma, per lui lavorare è impossibile. Ha ricevuto l'assegno di accompagnamento per accudire la mamma, ma è durissima far quadrare i conti alla fine del mese. Se potesse far venire dal Marocco sua moglie, che vive a Casablanca, potrebbe tornare in attività, ma la casa popolare di Via Pinturicchio, in località fontevole, secondo la prefettura, è troppo piccola per consentire il ricongiungimento familiare. Una casa che per Sadia, da quattro mesi a questa parte, è diventata una prigione. Posta al secondo piano di una palazzina senza ascensore, non le consente di uscire con la sua sedia a rotelle. Sadia lascia la sua prigionia di tanto in tanto quando Youssef riesce a trovare la collaborazione dei condomini nel prendere di peso la signora e la sua carrozzina e farle fare due rampe di scale. È così che passa le sue giornate a letto, davanti ad una TV sola, con una sofferenza condivisa solo con il figlio. Vorrebbe tanto andare via. In una casa a piano terra, che le consenta di uscire, è un po' più grande per ottenere il permesso di arrivo della nuora, con il sogno di una famiglia vera, finalmente ricongiunta. Adesso io chiedo di una casa a piano terra. Tanto Italia e il Comune di Gubbio hanno aiutato da tutto. Grazie Italia, grazie al Comune di Gubbio. Però adesso io mi servo una casa a piano terra per mia mamma. Io faccio tutto. Almeno aiutaci, per favore. Così è quello che mi serve. Youssef si è rivolto prima all'ater e poi ai servizi sociali del Comune di Gubbio, avendo saputo che in via Madonna dei Perugini ci sono case popolari nuove che non sono state assegnate a nessuno. 26 appartamenti, molti a piano terra, altri al secondo piano, ma con ascensore per l'accesso, di cui solo sei sono abitati e sette assegnati. Ora è in corso un nuovo bando per trovare altri assegnatari, difficili tuttavia da reperire, in base alle caratteristiche richieste, di cui due fondamentali, essere una coppia di anziani soli over 65 ed autosufficienti ed avere reddito Isee sotto i 17 mila euro. Youssef e Sadia non possono concorrere al bando. I parametri, afferma l'assessore Rita Cecchetti, vanno rispettati, pena per il Comune, la perdita del contributo. Nell'Italia dei requisiti, dove la burocrazia si esplica in norme rigide, incapaci di aderire alle reali esigenze, non ci sono colpevoli in questa storia, ma solo vittime. Lo sa Youssef, che non accusa nessuno, ma vorrebbe solo una soluzione al suo problema. Lo sa l'assessore Cecchetti, che tenterà, ci spiega, una strada complessa, ma non impossibile. Tra 45 giorni, infatti, si concluderà l'iter del nuovo bando per l'assegnazione delle case della Madonna dei Perugini. Dalle previsioni fatte resteranno ancora cinque appartamenti non assegnati. Si tenterà di ottenere dal Ministero una flessibilità per questa ultima frazione, ridigendo un bando che tenga conto di altri parametri, come la presenza di una disabilità in ambito familiare. È un tentativo che auspicabile possa far leva sul buonsenso.